Luigi Annucci, questo è un sentimento personale con Luigi Annucci e Lido Scotti, il mio grazie sarà per sempre perché hanno davvero percorso con me una pagina importante della vita dei dispari, hanno rappresentato un momento nella gestione della nuova realtà che abbiamo preso con la realità, quindi sono onorato di acquisto questo riconoscimento da madre del dispari. Grazie.